L'attività del Corecom Abruzzo dopo la decadenza del presidente Filippo Lucci è ferma. Il Corecom non si è più riunito. La denuncia arriva dal membro Ottaviano Gentile in conferenza stampa, dove è stato ripercorso tutto il lasso di tempo trascorso dalla fine dell'era Lucci sino ad oggi. Anche la dottoressa Leacche nel frattempo ha cessato l'incarico da dirigente ed è stata sostituita dall'avvocato Giardino. Più volte Gentile ha raccontato in conferenza di aver chiesto un incontro con il presidente della regione Marsilio e con quello del Consiglio Sospiri, senza però esito. Il mandato di Lucci è terminato il 5 agosto e come consigliere anziano Gentile ha invitato più volte i dirigenti a convocare il comitato, ma la risposta è stata un diniego, in quanto per lui, tramite la firma della dottoressa Ianni, non si poteva riunire il comitato perché perfetto, per Giardino non bastavano due componenti, insomma. Il consigliere regionale Angelo Sante in tutto questo ha chiesto pure un parere all'ufficio legislativo, che si è espresso con un parere molto articolato, che attesta che il comitato è imperfetto e dunque si può riunire anche con due componenti, seppur imponendo di deliberare all'unanimità. Non si riunisce di fatto da circa 5 mesi perché, come ha detto il dirigente, ha ritenuto che secondo lui non ci potiamo riunire in quanto lo ritiene un organo perfetto. Il Corcom è fermo, ma non sono fermi solo i rimborsi per i cittadini abruzzesi, che sono 57 mila euro. Perdiamo i contributi, spero di no, ma è probabile che li perdiamo 114 mila euro. Abbiamo rinviato al Consiglio regionale i fondi messi per legge al Corcom. C'è anche poi il parere dell'Avvocatura regionale, che dà ragione a Giardino invece, ma per Gentile è un parere inefficace e chiama in causa la legge regionale numero 9 del 2010. Si riunisce poi su questo tema anche la Commissione Vigilanza. Gentile viene ascoltato, si presenta con due pareri legali. In tutto questo il rischio concreto è di perdere ben 114 mila euro dall'Agicom, così come sono bloccati ben 57 mila euro per rimborsi ai cittadini abruzzesi dopo controversie con gestori di telefonia e a questo si aggiungeranno ritardi per le emittenti televisive. Tutte le deliberazioni sono bloccate. Si attende la nomina da parte di Marsilio e Sospiri del nuovo Presidente.